Il Sialia del re di Kofen non ha cantato per tre anni. Un giorno la regina disse, gli uccelli cantano solo per i loro simili. Mettetelo di fronte a uno specchio. Sei una maestra di spada, ma il tuo cuore pecca di risolutezza. Devo farti tornare a Weibo per uccidere tuo cugino. Tian Jian. Era una donna vestita di nero. L'ha vista tuo figlio mentre giocava. Era Jin Yang. Era lei. Voleva che la riconoscesse prima di assassinarmi. Vuole che ne conosca il motivo. Mia madre ne ha donato una a me e l'altra a Jin Yang. Un pezzo ciascuno. E ci ha promessi l'una all'altra. Voleva che ci sposassimo. Ti rendi conto? Jin Yang è tornata per uccidere il signor Tian su ordine della sua maestra. Abbiamo avuto un intruso la scorsa notte. Si tratta della donna in nero. La principe Saiyajang mi ha insegnato a suonare lo ziter. Mi ha raccontato la storia della danza del Sialia. Lei stessa era una Sialia. Da principessa Sanji la rottura decisiva. Secondo Screen Rant, i migliori film d'azione di tutti i tempi sono I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg, Rambo, Arma Letale, Trappola di Cristallo, Terminator 2, Il giorno del giudizio, l'originale Point Break, Bad Boys con Will Smith e Martin Lawrence e i film più recenti come Matrix, The Burned Ultimatum, Il ritorno dello sciacallo, The Ride, Redenzione. Riconoscimenti speciali di Screen Rant per il miglior film d'azione di tutti i tempi sono andati a tutti i film di James Bond con i posti sul podio per Goldfinger e Casino Royale, al film di Michael Bay, The Rock con Sean Connery e Nicolas Cage, a True Lies, una parodia di James Cameron con protagonista Arnold Schwarzenegger e a Top Gun con Tom Cruise nel ruolo di Pete Maverick Mitchell che l'ha reso una star. Che ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo? Scrivetemi la vostra classifica qui sotto nei commenti e cliccate qui accanto per tanti altri video. A prestissimo!